Sono 1.800 i pazienti che vengono trasfusi ogni giorno negli ospedali italiani, fra cui persone affette da patologie che richiedono un ricorso regolare alle trasfusioni di sangue. Ecco perché l'attività dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue non si è mai fermata, anche in un momento così complesso quale è l'emergenza sanitaria in corso. Il coronavirus, tuttavia, ha determinato un calo nelle donazioni, stimato quasi al 50% nel mese di marzo e poi progressivamente è rientrato, secondo i dati, dell'Avis comunale di Cremona. Fra i donatori c'erano persone che hanno contratto l'infezione, altre che erano in isolamento domiciliare, altre ancora che non potevano assentarsi dal lavoro. Poi non sono mancati i timori, soprattutto fra gli over 60, che non si sentivano tranquilli a recarsi al centro trasfusionale dell'ospedale di Cremona. Ad aprile però la situazione è migliorata, fra le guarigioni e la campagna informativa promossa dal Ministero della Salute. Dalla prossima settimana inoltre, ogni venerdì, saranno riattivate le raccolte presso la sede Avis di Via Massarotti, prima temporaneamente sospese. L'auditorium verrà trasformato in sala d'attesa per garantire la distanza fra le persone, poi si adotteranno i protocolli di sicurezza necessari, dal gel igienizzante alle mascherine fornite dalla struttura. Va sottolineato che dopo una comprensibile fase di spaesamento iniziale, i soci hanno mostrato la loro intenzione a continuare a donare e li ringrazio per questo, racconta la Presidente dell'Avis Comunale di Cremona, Andreina Bodini, unendosi al plauso espresso dal coordinamento interassociativo volontari italiani sangue. E se la sede Avis cittadina è chiusa al pubblico, restano invece operativi gli uffici amministrativi, che in questo periodo stanno ricevendo un elevato numero di richieste da parte dei potenziali nuovi donatori, una ventina nel solo mese di marzo. Dato superiore alla media e incoraggiante per il futuro, soprattutto considerando che tali aspiranti donatori hanno un'età compresa fra i 20 e i 30 anni.